Allora, c'è una regina del piacere lì accanto a voi, come canta Omero, come canta Omero, come canta Omero, è diavolo. La regina del piacere è sempre qua, è diavolo. Sì, canta Omero, sì, è un famoso trapper. Lei è Elena, di dove? Elena di Roma. No, no. Napoli. No. Viterbo. Latina, Paolo! Sì, guardi, manca Rieti, poi abbiamo fatto il lazzo. Così non è. No. Siamo nella città di Troia, quindi lei chi è? Io? È Tro... Ma che è lei? Ma le pare, signorina? Dov'è? Eh, si giri, su Elena! Cavallo di Troia. Ma non è il cavallo... Ma che schifo! Però non mi potete fare queste cose. Non mi potete fare queste cose. Va bene, eh. È disgustoso. Allora, se è Elena e la città è Troia, chi è quella parte andeficiente? Elena di Troia! Eh! Mamma mia!